Salve, sono Susi Lupo, sono l'esempio lambante di chi ce l'ha fatta. Sono stata allieva di questo ente di formazione e adesso da un paio di anni sono docente nei corsi di formazione professionale OSA. Vuoi formarti nel suo zone? Iscriviti al nostro corso OSA, Operatore Socio Assistenziale, una figura professionale che collabora con altre equip per soddisfare quelli che sono i bisogni primari della persona. Fai del sociale il tuo lavoro. Ti aspettiamo in sede. Per maggiori informazioni visita il sito www.isource.it oppure contattaci allo 0922 65 16 72